Il rugby per la prima volta a proda nei campionati studenteschi di Agrigento. Al Villaggio Peruzzo la squadra dell'Istituto Esseneto ha vinto contro l'Istituto Montalcini. Gaetano Ravanà. In un clima di sana sportività all'insegna dei valori che contraddistinguono da sempre il rugby, si è svolta ieri mattina la fase provinciale di tag rugby ad Agrigento. Dei giochi sportivi studenteschi tra gli istituti comprensivi Ritalevi Montalcini ed Esseneto presso l'impianto sportivo del Villaggio Peruzzo. Ad osservare il tutto il tecnico federale di rugby Gero Picarella. La partita è stata vinda dall'Istituto Esseneto per 7 mete a 6. Dopo la competizione come da tradizione rugbystica in un clima di festa ed amicizia si è svolto il terzo tempo con dolci e tante bibite. Per l'Istituto Esseneto hanno segnato Giuliano Pio Di Salvo, Alessandro Rizzo, Giuliano Spataro, Giovanni Triassi, autore di 3 mete e Nicola Spiraneo. Per l'Istituto Ritalevi Montalcini hanno segnato invece Cristian Licata, 3 mete, e poi Giuseppe Ferlisi e Tuminelli Gioele, quest'ultimo 2 mete. Già da ieri pomeriggio i ragazzi dell'Esteneto hanno ripreso gli allenamenti guidati proprio dal tecnico Gero Picarella e dai professori Calogero Fucà ed Angela Farruggia per la fase interprovinciale, determinati ad andarla a vincere.